è passato un anno una settimana solo una settimana da sanremo un sabato notte che è finito tardissimo per sapere tutte le classifiche per sapere come si concludeva questo trionfale festival di san remo del 2022 intanto ad una settimana dal finale abbiamo già i numeri che confermano ancora il successo di sanremo con qualche diversità e qui a radio torre libera andiamo ad analizzare la classifica che danno le radio durante questa settimana appena passata e naturalmente al primo posto anche qui viene confermato Mahmood con Blanco con brividi che sentite nel sottofondo e c'è la prima sorpresa perché al secondo posto c'è la rappresentante di lista con ciao mentre al terzo posto si conferma Elisa o forse sei tu quarto posto per Achille Lauro per il suo brano Domenica e poi in quinta posizione per quanto riguarda la classifica delle radio per i brani più trasmesse abbiamo Gianni Morandi apri tutte le porte questa è la classifica delle radio poi abbiamo anche la classifica di Spotify che è quasi uguale con qualche qualcosa che entra come novità che non è prevista nell'altra classifica anche qui Spotify per quanto riguarda primo posto Mahmood Blanco con ancora brividi secondo posto Irama ovunque Sarai che non era nell'altra classifica terzo posto la rappresentante di lista ciao quarto posto una novità assoluta Rinconi con insuperabile e poi quinta posizione per Elisa o forse sei tu qui Gianni Morandi e nelle posizioni settima ottava se non ricordo male insieme ad Achille Lauro quindi viene confermata un po' la classifica Sarremese con queste varianti con queste novità che sono preferiti da chi ascolta la radio e nell'altra classifica però tutto sommato il successo è sempre di tutto il cd di Sanremo del doppio di Sanremo allegato anche a sorrisi e canzoni che fa sì che questo festival per la musica leggera italiana sia davvero qualcosa di molto ma molto interessante continuerete ad ascoltare ancora le musiche del festival di Sanremo su Radio Torri Rivera per tanto tempo ancora perché per noi Sanremo è ogni giorno